La Lega ha chiesto un consiglio comunale straordinario a Pescara per il problema criminalità. Esiste davvero questo problema e quanto c'è da essere preoccupati di incecco? È evidente che dobbiamo avviare un'attività nuova rispetto a quello che ha fatto la precedente amministrazione. Ha fatto bene il giorno dell'insediamento il primo cittadino a chiedere immediatamente un tavolo per ordine della sicurezza pubblica che è stato fatto e quindi i temi sono sul tavolo di chi si deve occupare della questione. Noi vogliamo tenere i riflettori alti da un punto di vista politico, bene ha fatto il collega Foschia. Siamo tutti quanti convinti che è necessario tenere alta l'attenzione. Adesso però bisogna iniziare a fare delle cose. Noi siamo in attesa di ricevere un milione e mezzo di euro di finanziamenti al Ministero dell'Interno per realizzare un sistema di telecamere su tutta la città. Siamo ben consapevoli che ci sono zone in questo momento importanti della città di Pescara che sono sotto assedio, tra virgolette, sono poco controllate o in qualche modo hanno una certa presenza di fenomeni di microcriminalità. Una di queste è Piazza Santa Caterina che storicamente è una zona allo sbando da questo punto di vista. Penso di Via Lare Alpi, Via Trigno e tante altre zone della città sulle quali dobbiamo intervenire. siamo ben consapevoli, quindi fare dei consigli comunali sui luoghi per cercare di far partecipare anche la popolazione, far sentire, far verificare, far vedere la presenza delle istituzioni nei luoghi che in questo momento sono un po' sotto assedio e io credo sia una cosa importante. Quindi sì, noi dobbiamo fare questo perché dobbiamo riportare un po' di serenità a Pescara.